Al Teatro San Nazaro in Via Echiaia, mercoledì 5 dicembre, la settima edizione dell'Arcobaleno Napoletano, iniziativa di solidarietà ideata dall'attrice e cantante Anna Capasso e organizzata con la Fondazione Melanoma, diretta dal professor Paolo Ascierto. Siamo felici che ci siamo arrivati perché comunque sapete quanto è difficile portare avanti un progetto. Quando si parla di solidarietà si parla sempre in maniera molto vaga, invece noi insieme con il professor Paolo Ascierto dell'Istituto Pascale dei Tumori di Napoli portiamo avanti questo progetto appunto da 7 anni. La serata, condotta da Fatima Trotta, è stata presentata questa mattina in Sala Giunta ed è dedicata alla memoria di Leana Bagnaro. Un evento dove vengano premiate le eccellenze della campagna in ogni ambito, quindi artistico, anche imprenditoriale e anche a livello istituzionale, nello stesso tempo creare una manifestazione che possa anche fungere da volano per la prevenzione, quindi spiegare i motivi perché fare prevenzione per curarsi laddove c'è un problema legato al melanoma. È bello accompagnare la città a tanti momenti di solidarietà in vista del Natale e quindi sono molto contenta di invitare soprattutto i più giovani della città di Napoli a partecipare a questa bella iniziativa di arte, di cultura ma di solidarietà perché in modo concreto, non soltanto con gli ospici, potremo dare vita ad una serata magica per sostenere progetti importanti e speciali per la nostra città. Nel corso dell'evento saranno consegnati riconoscimenti a personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport, dell'imprenditoria e della società civile. Tutto questo è reso possibile, questa idea di Anna Capas diventa forza ed energia di bene grazie alla grande generosità di tanti artisti di questa nostra città che non si tirano mai indietro e sono sempre in prima linea per ricordarci che il Natale è innanzitutto costruire un clima di convivenza intorno al bene e ai valori fondamentali della città e quindi sono parte attiva di questo importante sforzo.